bene, vediamo adesso come, sempre partendo da uno stelo come facciamo a fare una piantina di steli quindi questo stelo l'abbiamo messo nel secondo layer quindi esiste e si chiama stelo andiamo nel layer principale, che è questo dove c'è semplicemente la telecamera e una luce e poi qui andiamo in un posto più o meno al centro facciamo shift A e plane e qui ci costruiamo un piano questo piano, vabbè anche più piccolo in realtà perché dobbiamo solo fare una piantina e in questo piano, se lo vediamo col set del tastrino numerico eccolo qua vedete che abbiamo questo piano su cui faremo costruire la piantina, ma dobbiamo suddividerlo e per suddividerlo facciamo almeno quindi in tab, in edit mode, facciamo almeno un subdivide questo è perché vogliamo avere un vertice centrale da cui far nascere tutti i vari steli a questo punto dobbiamo appunto indicare e creare quello che si chiama una suddivisione della mia mesh raggruppando alcuni punti e dicendo che su quei punti lì voglio far crescere la pianta e questo lo si fa normalmente in white paint quando si fa white paint quello che succede è che al momento non l'ho ancora creato ma verrà creato un vertex group e questo vertex group, praticamente al centro avrà la possibilità di specificare attraverso dei colori che vanno dal blu al rosso quali sono le cose che mi interessano di più quindi scegliamo il pennello add e poi andiamo in centro e clicchiamo facendo in questo modo vedete che si è creato un gruppo ora io voglio però che il vertice centrale, questo sia del bel color rosso rosso vuol dire che lui è completamente selezionato e questo qui diciamo che è la radice di nascita della piantina buono allora questo è tutto abbiamo fatto quindi un vertex group fatto in quel modo andiamo a questo punto in object mode e su questo piano andiamo nelle particelle nelle particelle ci costruiamo un particle system che sarebbe la piantina però chiamiamo particle questo ora le particle su questa abbiamo detto che va here advanced e poi gli vogliamo dire 20 ad esempio quindi vogliamo fare 20 piantine queste piantine le facciamo associandoci a un oggetto che sarà il nostro stelo ed ecco vedete che viene generato praticamente i nostri steli questi steli abbiamo detto che li vogliamo però tutti concentrati sul vertice centrale e quindi dobbiamo andare nei vertex group e cliccare radice di nascita della piantina e vedete che non è ancora andato nel vertice perché lui è già nei pressi perché il default è di andare nei pressi a livello di faccia ma se noi vogliamo proprio emettere dai vertici in questo modo vedete che abbiamo tutti i venti si sono ragrumati sul vertice il che sembrerebbe un problema ma se noi approfittiamo della rotazione e poi gli mettiamo global z ok a questo punto vedete che siamo in grado di ottenere l'effetto piantina ecco qui in questo caso forse 20 sono troppe ne mettiamo così 14 ma forse 20 alla fine andranno bene perché poi se le facciamo random quindi mettiamo un po' di randomosità di questo un po' di randomosità girandole randomicamente che quindi diventa un pochino realistico e poi gli mettiamo infine un po' di randomicità nelle dimensioni quindi qui random dimensioni vedete che diventa quindi randomicamente di lunghezze sparse perfetto abbiamo fatto la nostra piantina ora quello che ci rimane da fare come abbiamo visto anche l'altra volta è di isolare la piantina dal particle system che l'ha generata questo vuol dire in sintesi andare nel qua nelle trasformazioni applicare convert ok a questo punto tutti i duplicati delle particelle sono diventati effettivamente delle mesh quindi il sistema di particelle da qui eravamo partiti non ci serve più quindi possiamo anche rimuoverlo oppure non ci interessa nel senso che non c'è diciamo semplicemente appunto che non deve essere visualizzato in nessun modo a noi ci interessa il risultato se andiamo su il nostro oggetto qua ecco in object mode se selezioniamo vedete che ogni sing dal dal quadrato a tutti gli steli sono tutti separati quindi la cosa fondamentale adesso è di far fuori il questo piano anzi in realtà più che farlo fuori ci può servire perché poi su questo vogliamo poi costruirci l'insieme di queste piante quindi teniamocelo buono mentre invece facciamo in le selezioniamo selezioniamo soltanto la nostra pianta e poi facciamo ctrl j e poi questa la chiamiamo eccolo ctrl z quello che non ha funzionato è che prima ho fatto già una registrazione che mi seleziona anche quella cosa quindi noi facciamo così poi facciamo shift ok così abbiamo selezionato dove c'è la lampada togliamo un attimo questa lampada ok teniamo soltanto questo quindi quello che selezionato sono tutti questi steli sono selezionati e questi steli gli facciamo ctrl j e in questo modo abbiamo un unico un unico elemento che lo troviamo che lo troviamo non ho selezionato tutto facciamo di nuovo questo ctrl j ok sembra che adesso l'abbia fatto meglio quindi se selezioniamo vedete che adesso è unico e si chiama stelo 011 in realtà noi gli diamo il nome che vogliamo eccolo qua item stelo 011 lo chiamiamo piantina mesh ok questa piantina mesh tra l'altro se andate a vedere sono 124 facce quindi non sono pochissime e se andiamo a metterne un tot di queste piantine su questo piano usando il